Ecco a voi cinque tipi di seduttori e sono sicura che l'ultimo non lo conosci neanche tu. Cominciamo. Il primo seduttore qual è? È Ridge Forrester, sì, è quello là che punta tutto sulla bellezza, è quello là che nemmeno quando sta arrivando già lo senti, già lo sai, sai perché? Perché tu ti piensi che è caro Donahy, chiene Chanel in capo a te e invece no, è lui che si è messo un po' di profumo perché lui vuole inebriarti con la sua essenza, talmente che ti inebri che ti fa imbriacare, che tu quando le ramane sei tutte che so, eh buongiorno, ma che combinate, ti si tuffa da pietta e paluma, rende un profumo, un po' va bene, ma troppo stoppio, insomma. E quello là che quando arriva, teno praticamente la barba tutta bella fatta un secondo prima, ancora se un anno fa, renda mai che ho i capelli tutto così, che pur se c'è l'uragano forse a cinque non muove nessuna maniera, è quello che ottene ovviamente i bicipiti da fuori, che quando dà la mano ovviamente le indosso i bicipiti, può fare che lui è andato in palestra tutto l'anno, è quello che ottene abbinato un mocassino con l'orologio, e quindi sicuramente pure il mutante. È l'uomo che non deve chiedere mai, ma sicuramente è l'uomo che non parla mai, perché lui sta risultando so bello, che già parla fa, so bello, perché lui sa che tu basta che lo guarderai e lui ti avrà conquistato, capisci? È quello là che è talmente sicuro di sé, che dice ma tanto tutto quello che faccio è più, basta che sono qua, basta la mia unica presenza, capito? Che tu dici, se ne che se sarà pure bellissimo, ma adesso c'è cosa che faccio, mi carico un po' per spalle, mi metto un po' comodino all'entrata, così quando magari entrano le persone, si rifanno gli occhi, anche tipo un bomboniere, capisci? Il pensiero non è male. Il secondo tipo di seduttore è Einstein. Einstein che è? È il seduttore che ovviamente ti vuole sedurre con la sua mente, il mentalismo, con la sua cultura, che se preparate che le 4-5 battute, sessurata con i libri, che le 6-7 cose, che le 2-3 fasi latino, un po' che accenno storico riguarda qualcosa, e un paese da conquistato, perché quello è il suo modo superando, per esempio, questo è quello là che quando ti conosci, fa ciao, come va la vita? Perché questo non può dire come sta, perché lui deve essere alternativa, hai capito? E quello là che ti dice, lo sai che sembri medusa, che tu un paese ti dici, ma chi è? Ma questa medusa? Ma ricorda, la medusa è quella che sta amare, e quello che ti vuol dire, mi stai dicendo, allora giustamente, poi lui ti deve spiegare, perché ti deve affascinare, con la sua eleganza, con le sue parole, capito? E quello che, è appuntamento, insomma, non è che si cura tanto, dell'abbigliamento, perché giustamente dice, quello che deve colpire, sarà la mia parola, sarà la mia intelligenza, capito? E quello là che poi porta a piasolo il caffè, perché di solito, questi tipo, un po' sapient'uro, sono quelli là che tenono i mani, le cortillano un po' capito? Che non arriva in dei sacco, un po' con canguretto, quindi questi qua, acculturati, che offrono sicuramente un caffè, e sennò non lascia così, che per carità vanno bene, questi tipo così, però, c'è anche bisogno, un po' di altre cose, non è, non deve essere solo un copione recitato, anche un po' di spontaneità, ogni tanto non va male. Poi c'è stato il terzo tipo, il terzo tipo, ovviamente, chi è? Il terzo tipo è Totò, quello che vuole fare ridere, no? A tutti i costi, quello che ti hanno copione, quello che non è mai fatto in televisione, ma non è mai fatto in un spettacolo, che si avessi tutti i miei battuti, la mattina sera, no? E' quello là che, tu lo vedi, perché nel gruppo, è quello là che vuole sempre, brillare, no? Ma non brillare nel senso, perché lui è, io sono positivo, perché so vivo, no? Perché è quello là che sa da fare ridere, è quello che ha da fare un simpatico, oltre a misura, è quello che fa il battuto, che si portava nei 50 anni fa, è che in questo paese, hanno riduto tutto quanto, Battuto, sentite, risentite, fatto e rifatto, è in questo paese, però lui è simpatico, quindi lui le donne, le fa ridere, e uscirà sicuramente con quella battuta, ma io che, veramente ve lo giuro, non la uscite più, lo sai, che tu ridi per, per, per educazione, no? Perché mamma ti ha imparato a dicere, quando uno fa una battuta, per non farlo piangere, già quando teneva 5, si sa, ridi a mamma, perché pare brutta, capito? Non ti costa niente, allora tu, ridi, no? E quello che fa, lo sai cosa si dice, tu dice, yoga, ha cominciato, ma l'hai detto, non lo dici, ti prego, non lo dici, che se fai ridere una donna, e tu già sei chiesto, vuol dire che l'ho conquistata, già per metà, e tu dici, è vero, e infatti, chi gli ho problemi, è che l'altra metà, che non la conquisterai mai, perché, ha cominciato proprio malamente, capito? Vapro niente, che tu praticamente, dici, maronna, speriamo, a presto, che finisci tutto l'epertoria, così, fornimmo pure staserata, e ci andiamo. Il quarto seduttore, chi è? È pisolo, è praticamente, o seduttore addormuto, quello che praticamente sta là, ha da fare tutto il quale vuole, quello che si vuole fare sedurre, che fa la faccia a cucciolino, capito? Aspetta che vuoi parlare, voi dovete invitarvi, voi gli fate le domande, voi rispondete, voi gli dite che cosa si deve bere, voi gli dovete dire cosa deve fare, praticamente, è come se ascissero sulle vostre, insomma, vi siete portati il cacciottiello, il cagnolino a presto, avete capito? È quello là, che più che sedurre, si vuole far sedurre, perché non ce la fa, perché stanno magico, fa, fa, io esco, se succede bene, se non succede, se ne parla domani, capì? Domani è un altro giorno, capì? E lui è un po' rossello are inside. Quinto seduttore chi è? E lui, l'home conseguenza. E chi le ha conquistate donne, 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 donne ed è talmente sicuro di se stesso, che lui sa che basterà la parola, al punto giusto, basterà lo sguardo, nel momento esatto, che basterà solamente fare un cenno, con una mano, con il suo comportamento, con la sua camosella, tutta fiorata, e che tu cadrà ai suoi piedi. È quell'uomo che ha una certa esperienza, dobbiamo dire la verità, è quell'uomo che ha avuto a che fare con tantissime donne, ma il problema è che, se ha avuto a che fare con tantissime donne, non ne è rimasto neanche una, vuol dire che qualcosa è giù sbagliato, ma lui questo non lo sa, questo diciamo non lo pensa, non se ne rende conto. e quindi continuano come se lui fosse tipo un lato in lover, quello che conquista tutte le donne che lui vuole, ma non ha capito che la vera conquista è tenesse una donna per tutto il tempo che si vuole, perché, insomma, non è facile mantenere la stessa donna innamorata per tanti anni, avete capito? L'uomo in conseguenza lo riconoscete subito, appena scende dalla macchina, perché innanzitutto è quello là che non si mette tantissimo profumo, che se ne mette giusto due cucci, ma non perché tirchi, perché lui vuole che il profumo lo sentite solamente quando vi avvicinate, che a voi che vengono dubbi, dice ma è questo profumo, o è quello che è passato a rete, quasi quasi va a capire, e invece no, è proprio lui, è quello che non si veste in un modo apparisciente assai, ma si veste elegante e casual, quel dettaglio che ti deve andare nell'occhio, però che non ti deve far capire che lui, cioè a mezza giornata per capire che doveva mettere quel dettaglio, è quello là che ti fa parlare, non ti fa subito complimento, no, perché deve far vedere che lui sta razionalizzando su quello che tu stai dicendo, magari tu stai dicendo semplicemente come è bello su tavolino, e lui dice mamma mia che donna sensibile che sei, e tu dici ma niente da gittere, però è quello là che sa come colpire il tuo lato debole, perché a una donna basta che tu gli dici, che è una donna intelligente, prima che una donna bella, no, perché noi donne queste vogliamo, che è una donna meravigliosa, che è una donna unica, e chi lo sa che, insomma, il gioco è fatto, capi? Comunque, state fatte, perché chi su casa è di solito il tipo di seduttore più pericoloso, perché non si vede che vi vuole sedurre, però, mentre state pensando, ma chi se ci è o ci fa, già va fatto, quindi, mi raccomando, care donna, attenzione a tutti questi tipi di sedutore, voi se ne conoscete qualcun altro, scrivetelo nei commenti, avete capito? Buona vita!